Siamo con Fabrizio Luzzi e Stefani Rucker, protagonisti del 25esimo rally del Molise. Allora Fabrizio ci risiamo, gara di casa, sicuramente grandi emozioni. Sì, le emozioni sono sempre tantissime, correre in casa ha sempre quel senso di piacere in più. Quindi ci riproviamo anche quest'anno, speriamo solo nel tempo che ci accompagna. Nuova navigatrice, come ti sei trovato in queste prime ricognizioni? Le ricognizioni ancora non le facciamo, non le stiamo a fare da venerdì, però il feeling pare che è partito da subito. Una bravissima ragazza, sembra che ci troviamo bene. Ed eccola Stefani Rucker, per la prima volta in Molise, come hai trovato la nostra terra? Ciao Stefano, innanzitutto bellissime impressioni, sono stata accolta come in famiglia, anche se è la prima volta che vengo qui. Tantissimo calore, ancora non ho visto molto del rally in sé per sé, perché come diceva Fabrizio, le ricognizioni ci saranno venerdì, quindi ancora le strade non le abbiamo viste. Però l'impatto è stato molto molto positivo. Sei nata a Monaco, ma ormai possiamo dire italiana di adozione, tante gare e tante anche vittorie assolute, soprattutto in Sicilia. Aspettative per questo rally del Molise? L'aspettativa è quella di divertirci, che ci sembra la base di tutto e ci prenderemo quello che uscirà fuori. Tanti piloti validissimi, equipaggi validissimi, corri con un pilota locale, quindi la strada magari la conosce meglio, però come dicevi, obiettivo prima di tutto divertirsi, macchina performante, una Skoda R5, sicuramente anche per fare spettacolo. Esatto, è una bellissima macchina, pilota di casa, quindi è una motivazione in più, un obiettivo in più, perché ovviamente si cercherà di fare bene, di far divertire le persone del posto, non ho dubbi che ci divertiremo.